Grazie a tutti, signor Presidente, voglio costruire insieme a voi un ragionamento per cercare di conterizzare quanto più è possibile questa seduta di Consiglione. Una bellezza però è totte, oggi se partiamo del tema se al centro della nostra attenzione c'è questo tema è perché con tanti nostri sforzi abbiamo superato quel momento buio che ci ha tenuto per un anno e tre mesi impegnati che è il soveramento del CPS3. Per cui oggi da appena possiamo pianificare qualcosa. Io non sono d'accordo nel dire che la maggioranza per assumersi le sue responsabilità è di una posizione del vigilato. Quando parliamo del tema lavoro è un tema che interessa l'intero Consiglio Comunale nella sua interessa. E tutti quanti noi ci dobbiamo fare in carico per cercare davvero il momento difficile di dare risposte concrete ai nostri concittadini. A prescindere dalla crisi mondiale, a prescindere dalla crisi europea, a prescindere dalla crisi nazionali, noi ci erettiamo nel nostro titolo di dare delle risposte concrete. E in quali possono essere queste risposte concrete al di là del Bung, del mondo commerciale, dell'Unione Europa che sicuramente troveranno nelle nostre prossime sedute, sicuramente troveranno accoglienza e distruzione. Io in questo momento non è successo, questo non è successo a 360 gradi e voglio che veramente siano attenzioni di tutti. questo non è successo. Io vi indetto come qualcosa che viene sottostritto tra il Consiglio Comunale, l'amministrazione e il sindaco e tra i sosteniti, i sottobani che purtroppo noi abbiamo nel nostro territorio, non deve essere soltanto un atto virtuale, identico e poi non trova sicuramente dei momenti conseguenziali. Allora io non vi dico di fare un altro assessore che potrebbe essere l'assessore al lavoro, ma io ne suggerisco, qualora lei quando ascolta, anche come maggioranza, di mettere su da ieri, non da domani, una commissione ad hoc, che lo vogliamo definire commissione di tutto lavoro, che si intersegna, cioè che si interfaccia con i vari movimenti dei disoccupati e con le organizzazioni sindacali per trovare giorno dopo giorno delle opportunità di lavoro. E questa opportunità di lavoro si può trovare anche da domani mattina, quando l'eventramento presentato tra i disoccupati, prevede anche delle gare dei bambini, vuol dire con lo curare di più, con coloro in quale vengono a lavorare su tesori, e che spero sempre che siano vittime a pericare, ma da forza dell'ordine, non ce lo consentono, però nel momento del nuovo vincolo, vincolo, vincolo una determinata casa, e devono fare di carico, di posto lavoro, che sia quello del nostro territorio, e quindi di casoliamo. E che questa commissione non si vigni soltanto a portare avanti questo tema, ma anche a farlo stringere delle forze lavorative, in modo che a qualsiasi domanda noi possiamo dare delle risorse. e reggio Assessore di Assessore, lei ha parlato, come hanno parlato, anzi, di oro commerciale. L'oro commerciale è qualcosa che doveva concretitarsi nel mese di gennaio-metrario del 2011, perché si era in attesa che loro avessero il sottoposto permesso a costruire, l'autorizzazione costruire, e lì già era stato firmato un loro corpo di spesa, dove i cittadini, i nostri concittadini, dovevano operare in quel contesto. Io l'invito insieme al sindaco, insieme alla veranza, ma anche con tutti i consignori comunali, che si faccia per il decimo, quello di dialogare con i responsabili del luogo commerciale, perché anche se è un momento economico difficile, dobbiamo far sì che questo investimento venga tazzo sul nostro territorio e diventa intervolato per altri fondi investimenti.